Ciclista urta un'auto e dà in escandescenza. Maltempo, allagamenti e disagi nel Peserese. No Green Pass, Marchigiani in piazza a Roma. Code e blocchi contro il Green Pass, la protesta arriva in autostrada. Acquaroli, no obbligo vaccinale e prezzo dei tamponi calmierà. La dipendenza da internet può provocare gravi danni alla salute mentale dei ragazzi. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del Telegiornale. Cari spettatori di Fano TV, cominciamo dalla protesta contro il Green Pass che c'è stata sabato a Roma. La presenza di centinaia e di migliaia di persone. C'erano anche i marchigiani. Noi abbiamo intervistato una docente di Monte Felcino, in provincia di Peserurbino, che è andata appunto nella capitale per rivendicare la libertà di scelta. L'ha intervistata Simona Zonghetti. Non ti conto di noi, ma oggi noi ci riuniamo e siamo tantissimi da una dimostrazione. Migliaia di persone sono scese in piazza San Giovanni a Roma, ieri, per chiedere con cartelli, slogan e testimonianze la libertà di scelta e lo stop al certificato verde. L'attenzione di alcuni miglia, però, non è ricaduta sul messaggio lanciato dai manifestanti, bensì su un gruppo di giovani che al termine dell'evento hanno lanciato oggetti contro la polizia e sul vicequestore Nunzia Schilirò, che fuori servizio, è salita sul palco definendo il Green Pass illegittimo. Nei suoi confronti il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha avviato un'azione disciplinare, ma nel frattempo è passata in secondo piano la protesta pacifica di chi, a gran voce, ha detto no alla dittatura sanitaria. Sentiamola! Dai bambini! Giù le mani! Dai bambini! Giù le mani! Tanti marchigiani che hanno preso parte all'iniziativa, tra loro anche Barbara Giorgini, una docente di scuola secondaria superiore a tempo indeterminato, insegna lingua, letteratura italiana e storia. Ha quattro figli, tre nipoti e viva Monte Felcino. Lo scorso maggio aveva chiesto l'aspettativa per motivi personali e dunque a settembre non ha fatto il suo rientro in classe. Lei Barbara, perché ha deciso di partecipare? Ci erano veramente tante persone che sono partite anche dalla provincia, ma che sono partite da Fano, Fossombroni, Orbino. Eravamo veramente in tanti. Io ho deciso di partecipare perché voglio dare il mio contributo per questo che penso sia un momento molto importante proprio per la vita civile del nostro paese. Non capisco perché io che ho scelto di non vaccinarmi e ho scelto di non farlo in questo momento per motivi miei, debba essere tacciata di egoismo quando in realtà posso contaminare gli altri come i vaccinati. Quindi sono costretta a fare un tampone per svolgere la mia vita quotidianamente, quindi per andare a lavorare, per andare a scuola se fossi uno studente universitario, per andare al ristorante, per partecipare quindi alla vita sociale quando metto a rischio, tra virgolette, la salute degli altri così come fanno i vaccinati. Perché non si fida della scienza? Io mi fido della scienza, da dove ci sono dei dati certi e incontrovertibili, ma mi sembra che in questo momento nessuno possa dire che questi vaccini nel breve, medio e lungo termine non diano delle complicanze anche molto gravi. Quindi mi chiedo perché una persona in salute che conduce una vita sana dovrebbe mettere a rischio a repentaglio questa propria situazione, quindi la propria integrità fisica per farsi inoculare un siero, il cosiddetto vaccino, che queste certezze non ce le dà. Ho profonda fiducia nella scienza, poi ribadito la docente, laddove però è aperta il confronto e invece in questo caso viene evitato. Per esempio si dice che il vaccino possa portare a diversi rischi, uno di questi potrebbe essere il rischio al cancro, io non lo so. Non sono contro il vaccino ma ho dei dubbi e quindi prima di avvicinarmi a un'esperienza di questo tipo vorrei avere delle certezze. La notizia della manifestazione nella capitale, ha proseguito l'insegnante, è stata sottaciuta o relegata da alcuni trafiletti, ma questo non mi stupisce, ha proseguito, perché ormai da diverso tempo le informazioni non vengono date in maniera corretta. Credo che ci sia un grande discredito nei confronti di quelle persone che cercano di elevare una voce diversa dal coro. Tra l'altro l'etichetta, io non mi riconosco nessuna etichetta, tantomeno nell'etichetta di Novax o di No Green Pass. Io sono pro-libertà e vorrei che così come sono state libere le persone che hanno scelto di vaccinarsi, possiamo continuare ad essere liberi noi che abbiamo qualche dubbio e magari rimanderemo il vaccino a un momento successivo. Che cosa direbbe oggi ai suoi studenti? Allora, quello che dico sempre da quando insegno. Dico che la scuola e lo studio non serve per immagazzinare delle nozioni o dei concetti, ma che è una palestra per esercitare lo spirito critico e ritengo che in questo momento attuale sia una palestra formidabile perché sia necessario informarsi su più canali, su più fronti ed essere aperti al confronto. Quello che trovo invece è che ci sia una grande chiusura da parte di alcune persone che credono di avere in mano la verità. Quindi il vaccino viene considerato come l'unico modo per debellare questa malattia. Io non ho neanche la verità al contrario, cioè io non sono quella che dice che il vaccino fa male, non deve essere inoculato, ma credo che bisogna andarci veramente con le dovute cautele. Quindi ai miei ragazzi direi di continuare a fare quello che hanno imparato da me o dalla scuola in generale. Quindi avere aperti gli occhi, esercitare il proprio spirito critico per sfuggire dalle manipolazioni. E a proposito di notizie non date o date a metà o addirittura nascoste, ce n'è una che riguarda lo sciopero dei camionisti. Qualcuno che ha dovuto scrivere su internet dando conto di questa manifestazione ha detto e ha scritto che erano pochi camion. In realtà adesso, nei prossimi due minuti, vi facciamo vedere com'è andata. Grazie ai social network. Ragazzi davanti abbiamo il deserto, ma dietro abbiamo due smart che bloccano tutto, un camion e gli altri camion fermi. Noi qui ce la stiamo mettendo tutta. Signori, abbiamo cominciato da Francavilla verso Pescara Ovest, 15.17. Già stiamo facendo smadonnare un po' di camionisti dietro di noi. Siamo io e Alessandra. Veniteci a dare una mano per piacere. Fateci un in bocca al lupo, aiutateci in qualche modo. Più siamo meglio è, dai! Siamo in due macchine. Abbiamo bloccato l'ingresso di Varese, anzi l'uscita di Varese. Guardate che fila! Questo è il nostro eroe sull'SP40. No Green Pass. Ha fatto tutta la statale a 30 all'ora. Ha fatto davvero un botto di coda. Adesso sono riuscito a raggiungerlo. Dai ragazzi! Sono fermi, fermi completi. Davanti niente. Qua dietro il delirio. Tutti fermi, tutti fermi. Non abbiamo Green Pass, non va! Ci sono i camion grandi! Mi hanno bloccato e questa è la coda. Ci sono quattro camion che si sono messi davanti. Protestano Green Pass, c'è? Fate girare il video, c'è. Kilometri di coda. La polizia che cerca di raggiungere ma non riesce. Quindi condividete! Ci siamo, no Green Pass! Noi qua rallentiamo tutto, ce ne sbattiamo il c***o! A posto, ne abbiamo occupate tutte e tre! E' vero che sono tre qua. Meraviglia! E questo è solo l'inizio, così dicono almeno gli organizzatori. Intanto, torniamo a Fano, un ciclista urta un'auto, ferma la rotatoria ed ha in escandescenza. E' successo nel poveriggio intorno alle 16.30 in via Roma. Un quarantenne del posto, era in sella una bicicletta pedalata assistita e mentre circolava sulla rotatoria all'altezza di via Aldomoro, in senso contrario a quello di Marcio, è andato a sbattere contro una Ford Fiesta. L'auto, condotta da un fanese di 62 anni, era ferma per dare la precedenza. Dopo lo scontro, il ciclista ha cominciato a dare in escandescenza contro il conducente della vettura e, visto lo stato psicofisico alterato, probabilmente per aver assunto bevande alcoliche, gli è stato chiesto di sottoporsi all'etilometro. Il quarantenne si è rifiutato ed in supporto nei vigili urbani sono arrivati i carabinieri di Fano. Il ciclista si è anche scagliato contro l'automobilista e, stando al racconto di alcuni testimoni, ha rotto lo specchio retrovisore esterno dell'auto. L'uomo ha rifiutato anche l'intervento del 118, verrà ovviamente denunciato. Adesso l'aggiornamento Covid. Nelle ultime 24 ore, nelle Marche, sono stati registrati 26 positivi al coronavirus, di cui 13 nella provincia di Pesaro Urbino. Negli ospedali della regione i ricoveri sono in totale 76. Invariato rispetto a ieri il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre sale di uno quello dei degenti in semi-intensiva. Ad oggi non sono stati registrati decessi legati al Covid. La pandemia e l'isolamento imposto dall'emergenza sanitaria hanno aumentato i casi di dipendenza tecnologica tra i bambini e i ragazzi. Per l'esperto Semmi Marcantonini c'è stata poca attenzione da parte delle istituzioni alla promozione della salute. Se per alcune attività come la didattica a distanza avere una connessione fondamentale, in altre situazioni ha generato una vera dipendenza tecnologica. La pandemia e l'isolamento imposto dall'emergenza sanitaria hanno reso la vita dei giovani ancora più virtuale, aumentando di conseguenza il numero dei genitori preoccupati per le ore interminabili che i figli trascorrono davanti alla TV, computer e smartphone. Il fenomeno, denominato cyberdipendenza, è una patologia che può avere gravi ripercussioni sulla salute mentale, ritmo cardiaco, le interazioni familiari, le attività sociali e la difficoltà sempre maggiore a distinguere tra vita reale e virtuale. Solo in Italia si stimano oltre 300.000 casi, con il 79% dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni che attiva il telefono anche 120 volte, dedicando più di 4 ore al giorno, ovvero 120 al mese. A restituire questi numeri è un questionario proposto agli oltre 2.000 adolescenti che l'associazione No Profit Movimento Etico Digitale ha incontrato nelle scuole di tutta la penisola per approfondire i rischi della vita online. Come ci spiega lo psicoterapeuta Semi Marcantonini, questa problematica riguarda anche i giovani della provincia di Pesero Urbino. Si è pensato più a prevenire il contagio piuttosto che fare un'azione di promozione della salute. E oltre al problema della dipendenza tecnologica, ci spiega, ce n'è anche un altro. L'assoluto calo dell'attività motoria del movimento che è un elemento fondamentale nello sviluppo del fanciullo, del ragazzino, dell'adolescente, cioè non tanto solo per il discorso di vento obeso, perdere la capacità attentiva, ma il movimento è uno strumento essenziale nel sviluppo della persona, della sua intelligenza emotiva, della capacità di essere un soggetto sano dal punto di vista psicologico nel futuro. Le istituzioni, ha proseguito Marcantonini, dovevano e dovranno mettere in campo delle azioni per permettere in particolare ai fanciulli e agli adolescenti di stare il più possibile all'aperto e fare sport. Nel limite del possibile bisogna attuare una prevenzione per cercare di non prendere il virus, ma mi sembra che nel tempo si è messa più attenzione al non prendere il virus, ma ci siamo persi di vista gli aspetti, come dicevo prima, della socializzazione, della relazione, del movimento. Abbiamo diversi casi qui sul territorio di dipendenze digitali che abbiamo dovuto trattare con l'aiuto dello psichiatra. Sto parlando di ragazzini di 12, 13, 14 anni con crisi, chiamiamole, di astinenza, molto più serie di un soggetto che usa eroina, ecco, perché la dipendenza digitale crea questo. In alcuni casi, in particolare per le ragazze over 13, è stato necessario un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio. Oltre alle istituzioni, anche le famiglie possono fare qualcosa? Che la vita, innanzitutto, vale la pena di essere vissuta, vale la pena di essere vissuta all'esterno, che lo sport è cosa buona, ma non per forza lo sport può essere il movimento, come abbiamo delle bellissime colline e delle bellissime spiagge. I genitori devono essere testimonianza che l'utilizzo della tecnologia è importante perché ci aiuta a vivere meglio, ma possiamo anche farne a meno, quindi dando regole, dicendo no, cercando di essere direttivi in alcuni casi, ma nell'altro cercare di essere testimonianza che il cellulare possa usarlo anche di meno. E a tal proposito, sentite invece cosa ha detto il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a proposito dei genitori che sono costretti, in qualche modo, a non mandare più i figli a fare attività sportive all'aperto, come invece ha auspicato l'esperto che abbiamo appena sentito. Acquaroli dice, penso ai genitori vaccinati che però non hanno vaccinato i figli minorenni ai quali è precluso fare attività sociali e sportive. I ragazzi rischiano di essere preclusi o penalizzati. Bisogna fare uno sforzo, ha concluso Acquaroli, per garantire un contributo per il Green Pass con tamponi calmierati o comunque gratuiti. Sempre Acquaroli ha detto sono favorevole alla vaccinazione, ma la volontarietà deve essere vera e non condizionata da una serie di iniziative che rendono impossibile la vita a chi non si vaccina. E adesso parliamo del maltempo che si è riversato ieri su tutta la provincia di Pesaro e Urbino, causando numerosi danni e disagi tra rami e piante cadute sulla carreggiata, frane e blackout. A Fano la pioggia ha creato problemi in numerose strade e ha allagato nuovamente il sottopasso del Lido. Letizia Marchionni. Strade e sottopassi allagati, alberi caduti e rami spezzati. Si è concentrato tra le 19.30 e le 20, il temporale che ieri si è abbattuto su molte zone della provincia pesarese. Sono stati circa 30 gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo. Nel giro di mezz'ora tanti sono stati i disagi e danni creati dalla bomba d'acqua. Rami e piante caduti sulle strade, due frane in zona siligate e anche alcuni blackout elettrici si sono verificati nei pressi di Mondavio ed in altre parti della provincia. A Fossombrone un albero è rovinato a causa del forte vento su una bancarella durante la fiera di San Matteo. La pianta ha colpito solo di striscio un ragazzo di Lunano che non ha riportato gravi lesioni, mentre per lo stand, travolto solo parzialmente, i danni sono risultati ingenti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nella provincia di Ancona, 50 in totale, effettuati per alberi e rami pericolanti nelle zone comprese tra Senigallia, Ostra e Iesi. A Fano il nubifraggio tra lampi e tuoni ha creato disagi su diverse strade della città come alla Trave, a Fenile, in Viale Piceno e di fronte alla stazione ferroviaria. Problemi anche al sottopasso del Vallato dove a causa dell'abbondante pioggia riversata era possibile transitare solamente a bassa velocità. Ha lagato nuovamente anche il sottopasso del Lido, compreso Viale Carducci. La stessa cosa era accaduta anche dopo la pioggia del 21 settembre scorso ed aveva scatenato numerose polemiche. La Lega Fano aveva definito l'allagamento del sottopasso del Lido un altro disastro firmato Tonelli. Come aveva spiegato Gianluca Ilari, dopo i ritardi della vasca manca ancora l'allaccio elettrico per mettere in moto le pompe di sollevamento acqua. Abbiamo chiesto all'assessore ai lavori pubblici Fabio Latonelli e ai tecnici chiarimenti a riguardo, ma non ci è stata rilasciata alcuna intervista. Adesso parliamo invece di sanità perché oggi è intervenuto il sindaco di Pesero Matteo Ricci dopo il titolo del Corriere Adriatico sul nuovo ospedale da realizzare a case bruciate. E dice Matteo Ricci per evitare franchi indimenti ricordo che il presidente Francesco Acquaroli sa da mesi che le precondizioni per un eventuale accordo sono tre. La prima condizione è che l'ospedale nuovo si faccia velocemente a muraglia e quindi non a case bruciate. Località tra l'altro scelta dai sindaci dell'area vasta provinciale. Poi che il progetto sia modulare in modo tale da non compromettere eventuali futuri ampliamenti e l'ultima condizione che venga mantenuta l'azienda ospedaliera Marche Nord. È già stato perso un anno di tempo, ha aggiunto il sindaco, se si vogliono fare le cose serie e insieme ci possono essere le condizioni. Basta buttad sui giornali, un giorno sì, un giorno no. Sulla sanità bisogna correre, ha detto il sindaco di Pesero Matteo Ricci. E adesso invece spostiamoci ad Ancona dove nei giorni scorsi i vertici di confartigianato si sono confrontati con la regione e il sottosegretario Cancellieri sul problema delle infrastrutture della nostra regione. Per dare una risposta che tutta la nostra regione aspetta ormai da troppo. Nuove sinergie e meno burocrazia sono gli obiettivi condivisi da politici e istituzioni per colmare il gap infrastrutturale della regione, fare squadra per lo sviluppo di progetti comuni. E' stato infatti uno dei temi affrontati dai vertici di confartigianato di Ancona, Pesero Urbino, a confronto con il sottosegretario Cancellieri, regione, autorità portuale e comune di Ancona. Il convegno dal titolo Le infrastrutture come volano dell'economia si è svolto nel centro direzionale dell'associazione di categoria. I tempi noi speriamo che siano molto brevi, per molto brevi io intendo naturalmente 3-4 anni che potrebbero essere ottimali secondo noi, anche perché molti progetti sono già stati discussi, dibattuti e diciamo anche accettati. Mancavano sempre i soldi, mancavano sempre i fondi, il PNRR dovrebbe essere lo strumento giusto, anche perché non ci illudiamo che questo sistema di finanziamento vada immediatamente a favore delle piccole imprese. Questo è un sistema di finanziamento che ci rendiamo conto benissimo, andrà a favore di grandi progetti, ma se i grandi progetti servono poi a far correre le piccole imprese, ben venga anche questa modalità e noi siamo pronti come mondo delle imprese a intercettare il possibile i benefici che possono avvenire da queste soluzioni. Per superare la pandemia con grande resilienza, poi aggiunto il segretario Perpaoli, bisognerà essere veloci nei cambiamenti anche per competere sul panorama internazionale. La priorità è utilizzare tutti i fondi che sono a disposizione della Regione e del Governo per far sì che le marche, come ha evidenziato il Ministro Giorgetti, non siano isolate e irraggiungibili. Oggi per fare imprese le imprese hanno necessità di un contesto favorevole. Fare imprese in Italia è sempre più difficile e il tema delle infrastrutture materiali, nel caso di questa sera, ma anche i materiali, sono essenziali oggi per fare imprese in un contesto globalizzato potendo concorrere. E dal Governatore Francesco Acquaroli l'impegno a fare presto, bene e soprattutto in sinergia. Oggi noi siamo su tanti tavoli impegnati per cercare di recuperare un gap che comunque determina un ritardo infrastrutturale importante e per cercare di mettere in rete e in squadra tutte le sinergie possibili affinché con il PNRR e con le opportunità che in questo momento ci possono riguardare, inteso anche con l'ANAS, il Corridoio Ateatico con la Società Autostrade, l'Alta Velocità, la Orte Falconara e tante altre infrastrutture, la Fano Rosseto, la Salaria, possono diventare determinanti per rilanciare quanto prima il nostro territorio. Adesso spostiamoci a Senigallia dove è stata inaugurata oggi Ars Ingenium, la settimana dell'artigianato e delle micro e piccole imprese, l'iniziativa organizzata da Confartigianato Imprese Ancona Peso Rubrino per parlare di ripartenza tra nuove opportunità e vecchie criticità con una serie di convegni che terminerà il 3 ottobre e vi ricordo che dopo la telegiornale andrà in onda un approfondimento su questo evento. Intanto anche questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni al 338 49 68 250 e un reporter ci ha inviato video e foto che riprendono via Tagliamento a Fano e ci ha scritto Ci chiediamo a che cosa servono i paletti di fronte al Parco delle Rose, sembra un camminamento per poi mettersi nel marciapiede dove quasi mai nessuno sale ma prosegue per la strada. Infine, oltre a far notare le condizioni in cui versa l'asfalto, il segnalatore ci scrive che c'è anche un cartello che segnala dei parcheggi ma a causa dei paletti non è possibile parcheggiare, togliendo così sette posti auto in un luogo invece molto popolato. E adesso invece andiamo a fare gli auguri, gli auguri ad Alessandro Ottavi e Fiorenza Giorgini, residenti a Fano che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Auguroni e chiudiamo con la foto invece di Lina Rosati di Rosciano di Fano che ieri ha compiuto la bellezza di 100 anni. Bene, è tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. L'informazione torna domani mattina alle sette, come sempre con il commento alla stampa. Arrivederci. Grazie.